Bentornati cari amici del progettore Schadius. Oggi vediamo le componenti free che mette a disposizione ogni primo del mese Epic Game. Vediamo queste componenti. La prima sono delle animazioni che si applicano al nostro personaggio per scalare. La seconda componente sono delle esplosioni. Poi c'è una serie di moduli per la realizzazione di un villaggio medievale. Poi una serie di oggetti che possono essere inseriti all'interno delle scene con l'animazione blueprint tipo le porte che si aprono eccetera. Poi un insieme di liquidi che possono essere utilizzati come pozioni come armi eccetera eccetera. Poi movimento realistico del prato magari se c'è vento e altre e altre componenti che vengono applicate al terreno. E poi lo sviluppo di un grattacielo attraverso dei moduli che possono essere combinati in modo tale che si realizzino un grattacielo. Questi sono tutte le componenti che abbiamo a disposizione della Epic Game gratuitamente questo nostro luglio. Se vi è piaciuto il tutorial potete iscrivervi al nostro canale, mettere dei commenti, mettere dei like, selezionare la campanella per avere le nuove notifiche. Poi se vi è piaciuto particolarmente potete anche finanziare il nostro progetto attraverso Paypal che potete andare nel nostro canale. Nelle info trovate Paypal e gli altri social network. Poi c'è Patreon e anche Streamlabs quando facciamo gli stream. Vi ringrazio per averci seguito. Un bacione dopo il creazione e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito. Ciao! Ciao!